cinque derbili 2018 saluti beni beni usano ase in curso inghizza usun sagronaca carbonia una veemina e se omeriesi di averia a pustisi de esistetia in vistia in prazza chiusa e condizioni si non punti gravisi s'ingorta una gamba e uno braccio esti in osservazioni a su spirali sirai de carbonia punti interveniusi volontari su de su gente de geotto e i scarabinerisi perdagio su incidenti stradali insumorichi de perdagio sull'ompira carbonia i localitari garamata uno pensionato e verdagio sevesse uvoras a destra strada con sa vettura una opel corsa somini mancai a zicao non se fatto nuda punti interveniusi vigilesi de suvogo sa vettura ancevesia in su gracchi e fiera teso de su mori a su mancoso una decina de metroso il rilievo su un testo su a incuro de iscarabinerisi de carbonia e fuerao su de culturas antanarese su d'uso de arbilli vassau viera saddivo s'autismo e sa scola taddeo cossu a parigiara haici un ubercurso bodotto is classesse con letturas a poesias a filmato su cartellonese in amma sa anti a parigiau con ispi piusu giocato leddoso che andessi donau su cumbirao su a sa genti gus visindara a rigoli a resi donau a sa sozio autismo carbonia onlus intrasa is iniziativa sa a parigiara sa vincese sa elaborazioni grafica e audiovisiva del suo libro il segreto di camillo fatto vincese con sa lingua zarda ispi piusu desa segunda a desa scuola primaria desa antanarese partecipata su un corso nazionale raccontami l'autismo con su video una classe assai speciale e c'è sistete a vincese sa bortadura in italiano desa animazioni mon ami tom fatta desa sozio francesu autista san frontiere su zesi e su doji di arbili dote sezi espresso su des istituto taddeo cosso partecipanda dunca sa assaddi in paio escomunoso desa antanarese e teolada volendo in paio tu sa cittadinanza e prusche totu i babu su e mamma sa dei spi piusu un autismo pronto su accontai s'esperienza sa insoro vo una sensibilizzazione di questa popolazione carbonia sarà fai l'unisi noi di arbiglia e squattremese merinza sarà la conferenza della provincia del suo sud sardinia sattobio pubblico un mondo che scompare ma che affascina e che lascia una grande cultura la miniera a incuru del suo geologo dottor luciano otteli se vento esta parigiao de unisulchi si schiglia network universitari popolari de susulcisi entrara in donu carbonia martisi degi di arbili su centro girca sota carbo de carbonia era parigiao su seminario centro di eccellenza sull'energia pulita risultati e prospettive sattobio parigiao de sa sota carbo e sto verta totu su enceressi sa v'artecipazioni de sa sessori regionali a sa programmazioni e vicepresidenti de sa giunta raffaele paci e de su sindico de carbonia paola massida su seminario era premiti de presentai il risultato su e is prospettiva sa de su progetto centro di eccellenza sull'energia pulita finanziado de sa regione autonoma de sa sardinia con dinai de su por po 8 milioni si 356 mila euros sa rauzo gonduna noa de utilitari masainasa animator circaraversonali fincese che n'esperienza de assumi in binti villagios turisticus in sardinia prusatrus binti intra sud italia e estero i figuras a cercare sa vunti gustasa de responsabili e animadori mini club istruttori animadori sport e fitness cantantesi ballerinos o cabaretistas a giocolieres e artistas de circo dj e tecnicus o audioluci animadoris de contato lunisi noi garbili animatura animazioni adessi in mazaina savo presentai su mistieri de animadori turisticu e in sammattesi dici adessi is colloquius des elezioni vostra genti interessara a fai gustu draballu e questo avvera sultima noa grazie sa desisi io su informazioni in sardinia in canale 40 adiosu adiosu